Non reagire nel momento della furia, ma darsi tempo coltivando l'amore e il dialogo. È la raccomandazione espressa da Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. Commentando una lettura degli Atti degli Apostoli, il Pontefice ha rimarcato che Dio ama l'armonia e il dialogo. Di qui l'invito a non coltivare un atteggiamento di chiusura che porta all'odio, all'ira, a voler uccidere gli altri, bensì quello dell'apertura al Signore che ti fa accogliere le umiliazioni con letizia interiore perché stai sicuro di essere sulla strada di Gesù. L'orgoglio dei primi ti porta a voler uccidere gli altri. L'umiltà, anche l'umiliazione ti porta a somigliarti a Gesù. E questa è una cosa che noi non pensiamo. in questo momento, in che tanti fratelli e sorelle nostri sono martirizzati per il nome di Gesù. Loro sono in questo stato. Hanno in questo momento la letizia di aver sofferto, oltranci, anche la morte per il nome di Gesù. Per fuggire dell'orgoglio dei primi, soltanto c'è la strada di aprire il cuore all'umiltà. E alla umiltà mai si arriva senza le umiliazioni. E questa è una cosa che non si capisce naturalmente. È una grazia che dobbiamo chiedere.